Ragazzi oggi breve video perchè hanno spoilerato il gameplay della nuova mappa di StumbleGuys E si gode! Vi ricordo che l'aggiornamento uscirà per metà ottobre più o meno e sarà l'aggiornamento di Halloween Mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e sono due minuti di video quindi andiamo subito a vederlo Vai! Eccoci qua, ci siamo! Allora c'è a dire che non mi sono spoilerato niente Meno male se sono molto bravo Cioè ho visto che avevano spoilerato il gameplay però ho detto no Anche perchè dovevamo vederlo insieme qui Esatto eccolo qua si chiama bootbush Bello il nome mi piace E ci sta magari in italiano dobbiamo andare a vedere se li metteranno prima o poi i nomi Infatti E a quanto pare ci sono ste lumache che girano E ti spingono E ti spingono per farti cadere fuori Se le prendi giustamente E poi c'è qualcosa là in mezzo che spara cosa? Che esce tipo della lava, acqua, cos'è? No lava non penso cioè se si prende non penso che Un'acqua colorata Un'acqua colorata vai diciamo così acqua colorata Sì perchè non so se può essere pure che lava che se la prendi ti brucia Ti brucia possibile? Non lo so Ah le lumache sicuro che sono lumache Sì E ci siamo Ti spingono Non so se hai notato il fulmine Fa cambiare il colore Ah ok intanto la cosa al centro Il fulmine che esce Quello delle lumache Il fulmine che esce vedi al centro alla lumaca Ti fa cambiare il colore Ah diventa da blu a giallo da giallo rosso E ci sono tre tipi di colore No che figata Non so se hai capito Quello blu va lento Va lentissimo quello blu vedi Quello giallo va Media velocità media E quello rosso Corre molto veloce Esatto Che se ti prende proprio Fum Ti spinge all'orizzonte Fum Infatti guarda quello rosso Guarda quello rosso Sì sì guarda quanto corre È velocissimo E in base a come cambiano colore Se si urtano tra di loro Pensi? No perché esce il fulmine Una volta ogni top credo E quindi si cambia in automatico Sì lo vedo Lo vedo Sopra Beh sembra figo però dai Bello sì Cioè è un po' difficile Sembra difficile perché guarda Se ti prendono E ti mettono tutti quanti contro i tre Se si mettono in mezzo Soprattutto No eh Te ne voli Infatti Te ne voli per forza E penso che infatti come vedo Vedi 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 Quello rosso Se ti viene quello rosso E con la velocità che ti prende Penso che te ne voli Non so dove Infatti Invece se ti viene quello blu Te ne voli poco Veloce E magari riesce a salvarti Esatto Cioè dipende tutto Dalla velocità che va Beh ci sta Se ti spingono contro il fiume Penso che poi Addio Eh no sì Penso Penso che il fiume ti fa volare Molto no? Eh credo Non lo so Se ti spinge tanto Però vedo che un gioco finale In alto a destra Penso proprio di sì Però penso che lo possono mettere Come secondo livello no? Beh sì Penso Credo Come gli altri Che magari ti mettono A gioco finale Però Ti mettono anche come secondo livello Che ne pensi Di sta Molto bello Sono curiosa di giocare Sì Non vedo l'ora Anzi che esce Così almeno giochiamo Vabbè ma sembra facile dai Sì sembra facile Almeno Allora Ecco il problema è quando Se ti tirano pugni Scivolate così Ecco infatti Potresti pure perdere Beh Se fai così Però Io penso che se gioco io A questo livello Potrei vincere Dai L'ha detto eh Ci spero ragazzi Ci spero Appena uscirà l'aggiornamento Che farà la live Voglio vedere Poi si riesce a superarlo Infatti Poi lo può vedere Ragazzi vi ringrazio Per aver visto questo video Ci vediamo alla prossima Ciao